Via le bombe! Mi c'è accesa, mi c'è accesa! Al riparo! Bomba in buca! Prima le esplosioni, poi le domande. Sta per esplodere! E... BOOM! No, 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 no! Nah... 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 ah! Sì, sì, sì. Avanti, ti sembra una cosa pericolosa? Puoi vedere come si disinnesca una bomba? Ehi, zotto! Avete mica un cerino? Avanti, avanti, avanti! Via, gambe levate! Ehi, dov'è finita la bomba? Niente paura, ci penso io! Cosa vuol dire che non ti sembra sicuro, eh? Impaziente? Non sono impaziente! Vado, vado! Prendi questa e questa e poi tiro tutto sulla tua faccia! I miei amici le voglio come le bombe! Accesi e pronti a esplodere! La fine del mondo! In arrivo! Apprenti la sotto!